ciao benvenuti su delta gaming qui a delta 89 ormai volge al termine la fusione per tor siamo al rush finale e questo weekend ovviamente come ci aspettavamo c'è l'evento corsa all'evocazione il primo dei due che potremo affrontare purtroppo per quanto riguarda il prossimo che avverrà che inizierà martedì e terminerà giovedì non abbiamo ancora informazioni ancora non ho visto nulla poi magari in questi giorni qualcosa uscirà fuori oppure dovremo aspettare lo scorreremo tutti insieme all'ultimo cosa conterrà quell'evento sembrerebbe che non comprenda campioni associati però non è da escludere del tutto quello che sappiamo invece per ora è per quanto riguarda l'evento corsa all'evocazione attualmente in corso e sappiamo che la soglia da raggiungere sono 3000 punti sappiamo che ogni scheggia sacra che tendenzialmente in questi eventi è quella che ci dà il quantitativo di punti maggiore ci dà 500 punti quindi con 6 sacre ci portiamo a casa i frammenti che ci mancano per completare l'evento da notare anche che questa volta credo sia questa volta i punti per le scheggi antiche sono solamente 20 quindi dobbiamo valutare con attenzione se conviene aprirne di scheggi antiche o meno visto che il quantitativo di punti è molto ridotto se non sbaglio in passato erano 30 o spesso sono stati 30 magari ricordo male in più abbiamo avuto anche eventi in cui davano punti extra quindi ovviamente le scheggi antiche non saranno un grosso contributo però possono aiutarci se non abbiamo molte sacre le schegge del vuoto sono sicuramente un buon punteggio però dipende quando vogliamo aprirle e anche le scheggi primarie ovviamente 200 punti sono davvero tanti io finora ho preferito sempre aprirle durante eventi con due pera associati nel mio caso quello che ho fatto avevo un po di tempo prima ho aperto mille schegge misteriose in modo da risparmiarmi due sacre ovviamente non ne avevo bisogno però avevo del tempo avevo molte misteriose perché non sfruttarle se avete un po di misteriose vi conviene farlo anche a voi ovviamente cercare di risparmiare le salve soprattutto in questi eventi dove non abbiamo delle probabilità incrementate di trovare i campioni dalle schegge sacre quindi vorremmo cercare di consumare il meno possibile ricordandoci sempre che potrebbe arrivare un evento campione garantito con una modalità o un'altra per freia nelle prossime settimane quindi ovviamente chi ha meno schegge sacre è più interessato a conservarle ovviamente possiamo usare una una combinazione qualunque di schegge per ottenere punti in contemporanea poi questo weekend abbiamo ovviamente le probabilità progressive su alcuni campioni andiamo a vedere quali sono questi campioni sono tutti i campioni che resuscitano in particolare io di questi già ho elva ottimo campione già ho paition anche lui molto forte kaja non la ho ma non è la fine del mondo per me non averla ancora ne ho ben due anche se una delle due ancora non l'ho evocata dai frammenti e invece moli potrebbe essere un campione che potrei utilizzare anche se in arena non si usa più come una volta però potrebbe essere utile principalmente per l'idra quindi è una soluzione che vorrei provare ad esplorare quindi seleziono lei ovviamente voi selezionate in base alle vostre necessità se non avessi nessuno di questi campioni dipende a cosa puntate di più paition vi da e elva vi danno davvero molto supporto elva la uso tantissimo soprattutto in pwe perché vi porta comunque molti buff vi dà un'aura di velocità e in pwe è molto utile soprattutto in pwe raramente vi muoiono tanti campioni magari ogni tanto ne muore uno quindi lei che le suscita solo un campione va bene ancora probabilmente è molto più utilizzata in arena nelle fasce più elevate dell'arena ovviamente richiede una buona build ma le sue le sue abilità sono molto utili per quello io devo dire non l'ho ancora sfruttata al massimo non la utilizzo ancora tantissimo devo ancora buildarla bene quindi non posso darvi la mia esperienza diretta su di lei come epico gorb gorab non credo il suo kit ormai sia molto rilevante per il gioco gli altri due campioni rector drat è stato il mio primo reviver di livello e dopo quasi tre mesi di gioco l'ho trovato e ha svoltato il mio account per un anno almeno non ne ho potuto fare a meno era in tutti i miei team non esisteva ancora l'idra all'epoca ma con l'idra diventa ancora più rilevante grazie alla sua capacità di applicare velo ugo anche è un campione molto molto forte per vari mesi l'ho utilizzato anche nel mio team di arena ma parliamo di anni fa sfruttando molto la sua passiva il suo kit è molto utile anche nel suo caso contro l'idra in quanto è in grado di mettere non tanto riduci difesa che ci fa sicuramente comodo ma blocco buff e ovviamente di campioni epici non ce ne sono tante come opzioni non mi cambia molto metto un altro ugo ugo perché se riesco poi a portarlo a più 4 non mi dispiacerebbe quindi queste sono le mie due scelte voi valutate in base a cosa serve più al vostro account andrò ad aprire 4 sacre una dopo l'altra vediamo cosa esce ovviamente commentate voi qua sotto fateci sapere anche voi come sta dando questa fusione se avete aperto delle schegge quante ne avete aperto e chi avete trovato lasciate anche un like su questo video iscrivetevi al canale e raggiungeteci su discord cominciamo quindi dalla prima epico scabrius ne ho già varie copie è ok l'ho utilizzato in passato principalmente nella fazione però poi ho trovato campioni migliori ed è finito nel volt andiamo al prossimo secondo vediamo un po altro epico is bale non male come epico riesce a mettere un po di bombe io non l'ho in realtà mai buildata è un campione per la fusione di mikage quindi sicuramente può essere utile per quello io ovviamente ho già la mia copia terzo campione altro epico valla nulla di che neanche lei quindi andiamo all'ultimo vediamo se riusciamo a trovare un leggendario o se uscirà un altro epico credo di aver raggiunto devo fare spazio quindi libero qualche posto e torno subito rieccomi avendo aperto mille schegge misteriose ero rimasto con l'inventario pieno non avevo liberato spazio eccoci qui per l'ultima scheggia si è fatta attendere vediamo adesso cosa ci darà niente altro epico e altro epico che non mi interessa purtroppo ho completato l'evento giusto giusto 25 frammenti per il campione epico della fusione ricordatevi sempre che questi epici andranno portati a livello 50 con il massimo livello di ascensione e poi dovranno essere fusi entro la data di termine della fusione e la possiamo vedere qui mancano sei giorni e sei ore al momento in cui sto registrando questo video quindi controllate voi il tempo che manca e non fatevi trovare impreparati ricordatevi che molto probabilmente servirà uno o due milioni per poter fonderli quindi non fatevi trovare senza argento e con questo è tutto per oggi fateci sapere voi se avete trovato qualcosa di interessante come sta andando questa fusione se siete pronti per gli ultimi eventi che dovremmo affrontare in questi giorni come al sol lasciate un like iscrivetevi al canale e raggiungeteci su discord io per oggi vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao